Anche se la stagione non è ancora terminata ufficialmente nel campionato di eccellenza, quella dell'Erpine invece con l'eliminazione del Cervinara contro l'Agropoli è giunta al capolinea. Ci sono comunque le prime ufficializzazioni e i primi rumors per quello che riguarda il prossimo campionato. Alfonso Contaldo ha raggiunto l'accordo con il presidente Franco Fabbricatore e per il terzo anno di fila siederà sulla panchina dei Leoni Montemilettesi. Il club del massimo dirigente Nocerino fa sapere che sarà adottata per la prossima stagione una linea green che punti a valorizzare i giovani. Altra conferma è quella del tecnico della Virtus Avellino Gianluca della Rocca che continuerà la sua avventura in bianco-verde. Il mister della Valle dell'Irno non ci ha pensato due volte a risposare il progetto del duo salvati Petroziello, progetto che negli ultimi anni ha tirato fuori calciatori e allenatori importanti come Maricunda e Filarmonico. Per il torneo di promozione invece Mercogliano potrebbe ritrovarsi senza squadra, il sodalizzo di Antonio Sarti non avendo a disposizione il nuovo stadio comunale vacilla per discrizione, mentre si interrompe, dopo sette lunghi anni, l'avventura di Giuseppe Tornatore come DS del Solofra.